Io sono contento di aver trovato un amico bene, faccio a lui tanti auguri e la prossima volta facciamo meno gol, ma noi professionisti sinistra sa quanto ci teniamo a perfezione, ossia altri un po' meno di me, però è chiaro che sono stato suo battagliero e con tante volte contro e sono stato anche compagno per cui mi ha fatto veramente piacere trovare un uomo prima di tutto oltre che uno straordinario professionista allenatore, faccio in bocca al lupo a lui e la prossima volta ne ne facciamo solo quattro. Io penso anche io sono stato contento di ritrovare grande campione, io penso che come vino buono non invecchia mai da botte, io penso che naturalmente Ibra sia giocatore che fa differenza ancora oggi come ha fatto sempre in carriera, è chiaro che sono incazzato per quello che è successo a mia squadra, però posso fare soltanto complimenti a loro e complimenti a lui non solo per carriera perché non è che si parla di figurina, si parla di presente e lui è altra categoria.